Sarà processata e dovrà rispondere di falso dunque Giussi Occhionero, la parlamentare d'Italia Viva finita nel vortice dell'inchiesta antimafia denominata Passepartout, quella che ha visto finire sotto i riflettori l'ex esponente dei radicali Antonello Nicosia, che secondo la Procura della Repubblica di Palermo da portaborse della deputata aveva avuto la facoltà di entrare nelle carceri incontrando i boss e facendosene messaggero all'esterno. Il giudice per le udienze preliminari del Tribunale di Palermo, Fabio Pilato, ha rinviato a giudizio l'Occhionero, che a Montecitore era stata eletta con liberi uguali per poi aderire al gruppo parlamentare del nuovo partito di Matteo Renzi. Nel procedimento giudiziario scaturito dall'operazione Passepartout, Antonello Nicosia, accusato di associazione mafiosa e di falso aggravato, sarà processato con il rito abbreviato. Lo stesso che è stato chiesto e ottenuto dai legali del boss di Sciacca, Cursio Di Mino, e da quelli dei gemelli Paolo e Luigi Ciaccio. Questi ultimi sono accusati di favoreggiamento e che lo stesso capo di imputazione a carico di un altro saccenzo, ossia Massimiliano Mandracchia. Anche lui è stato rinviato a giudizio. L'Occhio Nero avrebbe fatto passare Antonello Nicosia, noto per le sue battaglie in favore dei diritti dei detenuti, per suo assistente, consentendogli di entrare con lei nei penitenziari senza autorizzazione, cose che avrebbe permesso all'ex esponente dei radicali di avere incontri con i boss. Solo in un secondo momento, dopo tre ispezioni in istituti di pena siciliani, la prima al Pagliarelli di Palermo, le successive rispettivamente nel carcere di Agrigento e in quello di Sciacca, i due avrebbero formalizzato il rapporto di collaborazione. Secondo i sostituti procuratori di Palermo, Francesca Dessie e Geri Ferrara, e il procuratore aggiunto Paolo Guido, grazie alla collaborazione con l'On. Occhio Nero Antonello Nicosia avrebbe avuto la possibilità di incontrare capi mafia rinchiusi al 41 bis. Ai magistrati, che in un primo momento l'avevano sentita come persona informata sui fatti, la parlamentare aveva riferito di essere stata ingannata da Nicosia, di non sapere di quali fossero i suoi reali intendimenti. Per la Procura della Repubblica, il Saccense, che era stato a sua volta detenuto per avere scontato una condanna per droga, avrebbe incontrato i boss, portando all'esterno i loro messaggi. Gli avvocati dell'On. Giuseppino Occhio Nero, Bruno e Di Benedetto hanno commentato il rinvio a giudizio deciso dal Tribunale di Palermo, precisando con fermezza. Dicono che la loro assistita è del tutto estranea da debiti relativi a contesti mafiosi, anche se è stato preso atto lo stesso con amarezza del fatto che il giudice avrebbe avuto tutti gli elementi di fatto e di diritto per emettere già sentenza di non luogo a procedere. Si dicono certi legali che riusciranno a dimostrare davanti al giudice monocratico quella che definiscono l'assoluta liceità dei comportamenti della propria assistita. Un'indagine culminata ormai un anno fa nella raffica di arresti decise dalla magistratura antimafia e che ha fatto emergere uno scenario fatto di presunti rapporti stretti e progetti criminosi comuni, compreso l'omicidio di un imprenditore tra Nicosia e Accursio di Mino, quest'ultimo a vecchia conoscenza di inquirenti ed investigatori sin dai primi anni 90 quando fu coinvolto nelle operazioni che sgominarono la famiglia mafiosa di Sciacca. Nicosia accusato di essere stato perfino un referente del superboss latitante Matteo Messina Denaro da cui, stando ad alcune intercettazioni, si sarebbe aspettato un segno di riconoscenza concreta per quello che stava facendo. Tutte accuse che Nicosia ha respinto, chiarendo che le cose da lui dette durante le intercettazioni erano millanterie di uno che si vantava di un potere che non aveva, mentre di Mino ha aggiunto di non essere più mafioso da anni. Grazie. 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 Grazie.